Oggi pomeriggio a Capaccio Pestum, presso il municipio del capoluogo, il neosindaco Franco Alfieri si insedierà e proclamerà la giunta. Antonio Di Filippo è il primo candidato che dovrebbe essere premiato. Buone possibilità anche per Fabio Scariati, Antonio Scariati, Eugenio Guglielmotti, Lucio Conforti. Due donne per le quote rosa, Stefania Nobili e Maria Rosaria Piccariello. La maggioranza consigliare attuale ha dieci seggi e per ora è così formata. Stefania Nobili, Antonio Mastandrea e Gianfranco Masiello, Emanuele Sica e Maria Rosaria Piccariello, Igor Ciliberto, Ettore Bellelli, Pasquale Accarino, Angelo Merola e Maria Antonietta Di Filippo. Naturalmente si registreranno dei cambiamenti dopo la nomina della giunta. La minoranza invece non dovrebbe cambiare perché nessuno ha rinunciato all'incarico. Per ora è quindi formata da Italo Voza, Enzo Sica, Luca Sabatella, Ulderico Paolino, Francesco Longo e Angelo Quaglia.